Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dall'A1 dove si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta in direzione Bologna a causa della chiusura parziale delle corsie provocata da un veicolo in fiamme. Sempre in A1 rallentamenti a causa di un veicolo in avaria tra il Bivio con la variante del Valico e Badia in direzione Firenze. Sulla statale Trebis Tiberina a causa di lavori scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrate e in uscita in direzione Orte. Viabilità della città di Firenze e possibili disagi a causa di un incidente avvenuto in Piazza Dalmazia in direzione Statuto. Chiudiamo con i traghetti, sono state cancellate tutte le corse fino a 19 dal Livorno all'Isola d'Elba. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio! Grazie a tutti!